Il 29 luglio del 1984 la nazionale olimpica guidata da Enzo Bearzot fa il suo esordio nel torneo di calcio dei giochi olimpici di Los Angeles 24 anni dopo l'ultima partecipazione a Roma nel 1960. L'Italia riesce a superare l'Egitto grazie al gol di Aldo Serena che da lì a qualche mese sarebbe entrato anche nel giro della nazionale maggiore. A fare notizia è tuttavia la spigolosità di una gara che fa registrare addirittura 4 espulsi tra cui Sebino Nela e 5 ammoniti. Insomma una partita con ben poco spirito olimpico come sottolinea Bearzot al termine. Il cammino degli azzurri alle olimpiadi los angeline si fermerà ad un passo dalla medaglia di bronzo sconfitti dalla Jugoslavia nella finale per il terzo posto.